Ben ritrovati con questo nuovo video nel quale ho voluto raggruppare delle piccole annotazioni che nel tempo mi sono tenuto da parte e avendo raggiunto un certo numero ho deciso di offrirvele e presentarvele in questo video. Il titolo Pillole di Ubuntu è proprio perché sono delle piccolissime annotazioni, delle cose puntuali che molto probabilmente la maggior parte di voi conoscerà già però può venire utile a qualcuno che ancora non ne ha conoscenza. Ho deciso di metterci anche un numero come Pillole di Ubuntu numero 1 come se fosse la prima puntata perché chissà mai non si è mai detto che in futuro avrò ancora degli ulteriori appunti conservati nel tempo che se raggiungeranno un certo numero potrei sempre creare un Pillole di Ubuntu numero 2. Chi lo sa comunque per il momento partiamo con il numero 1. Allora, primo punto creare scorciatoie per i siti più usati in Unity e o sul desktop con il browser Chromium. Ecco, con il browser Chromium perché la caratteristica che vi mostro ora, la funzionalità, è specifica del browser Chromium oppure è sempre accompagnato dal suo gemello Google Chrome naturalmente. Quindi questa funzionalità appartiene ad entrambi ovviamente i browser. Allora, cosa consiste questa caratteristica? Consiste nel poter facilmente creare da una pagina aperta sul web, quindi nel browser, nel navigatore, creare un link a quella pagina per quell'indirizzo, sia sul desktop, quindi sulla vostra scrivania, che nel menu che poi in Unity si traduce nella Dash di Unity. Quindi se io apro la sezione per gli applicativi della Dash di Unity, eccola qua, ci ritroveremo quel link creato come vi mostrerò fra un attimo, ce lo ritroveremo qui come fosse un applicativo qualsiasi da far partire, però si aprirà quella tal pagina, quell'indirizzo web. Quindi procediamo a mostrarvi come si fa. Dunque, prendiamo un indirizzo qualsiasi, mi prendo uno dei miei preferiti qua, giusto per, a scopo didattico, non importa ovviamente quale sia il sito. Quindi diciamo che io ho bisogno di usare molto spesso questo sito, e per non dover aprire il browser, schiacciare il link al mio preferito per arrivare su questa pagina, dico mi creo una scorciatoia sul desktop e oppure anche per la Dash di Unity, quindi nel menu degli applicativi, per aprire più rapidamente, per avere più rapidamente sotto mano questo link. Allora, prima operazione ovviamente aprire l'indirizzo, siamo posizionati, poi si va sul menu file del browser e si sceglie Crea scorciatoia applicazione. Facendo clic qua si apre questa finestrella, questo dialogo, che riporta già il titolo dell'indirizzo che abbiamo qua sotto, dell'indirizzo della pagina che ci interessa aprire rapidamente, vedete, main page Blender Wiki, è proprio il Blender Wiki, con l'icona che caratterizza il sito, in questo caso l'icona di Blender, e per difetto presenta già attiva di creare una scorciatoia per il desktop. Opzionalmente possiamo attivare anche la creazione per il menu applicazioni, ripeto nel nostro caso in ambito Unity vuol poi dire la Dash, la ricerca via Dash dell'applicazione, e posso attivare ovviamente entrambe, oppure rinunciare a una, rinunciare all'altra, entrambe non ha senso, vedete si spegne il pulsante Crea perché non ha senso, quindi almeno una delle due oppure entrambe. Ovviamente io ve le mostro entrambe a scopo appunto didattico, quindi si scelgono le scorciatoie che si vogliono creare, in quale ambito si vogliono creare, si preme il pulsante Crea. Ecco qua e Chromium ci presenta, ci apre, quindi fa sparire la scheda dalla finestra principale del browser e ce la presenta già come verrebbe aperta dalla scorciatoia, la nostra finestra, quindi la chiudiamo al momento e andiamo a vedere il lavoro che ha fatto questa funzionalità. Dunque, se andiamo sul desktop, scegliamo un desktop ancora vuoto, non occupato, vedete che è apparsa l'icona rappresentativa, in questo caso specifico, del sito di Blender con il titolo Main Page Blender Wiki. Facendo doppio clic su questa scorciatoia, si apre una pagina ridotta del browser Chromium, del navigatore, quindi non con tutta l'interfaccia, come potete vedere, potete anche ingrandirla e utilizzarla come volete. È Chromium, ma vedete che è limitata, senza barra di indirizzo, senza pulsanti qua in cima, dei preferiti, però si è aperta anche rapidamente. Vedete, io posso lavorare esattamente come se fosse in Chromium, ma con una pagina più snella, diciamo, un attimino più snella. La chiudo e quindi vedete che sul mio desktop ho uno, posso avere ovviamente quanti ne voglio, di link rapidi per i siti che uso di più. Ecco, ho anche fatto creare la stessa cosa qua, a livello di applicativi, proviamo a cercare Blender forse, penso che sia questa, faccio una prova prima di dirvi. Ecco, infatti è quello il link. Ecco, per questioni di aggiornamento della Dash di Unity, almeno a livello di Ubuntu 12.04, che è quella che sto usando io, vedete che non è immediato. Vedete che è un'icona generica che presenta la scorciatoia che ho appena creato, invece di presentarvi l'icona di Blender con sotto il titolo. Vedete, non c'è né testo, né icona specifica. Ecco, al reboot, ovvero al riavvio del PC, sicuramente questa icona, che vedete così generica, si presenterà come questa sul destro, quindi significativa, con il titolo della pagina e l'icona relativa del sito. Ecco, questo è, diciamo, un difetto di aggiornamento della Dash di Unity, che non sempre, non in tutti i casi, aggiorna subito immediatamente l'icona e non riflette immediatamente quanto creiamo per la Dash stessa. Quindi, per il momento, per quanto riguarda questo video, accontentate di questa icona generica. Sappiate però che, una volta che riavviate il PC e si aggiorna anche tutto il database della Dash di Unity, vi si presenterà l'icona relativa. Ecco. Diciamo che, fra le due opzioni, probabilmente la più utile è quella comunque di creare il link sul desktop. Ed ecco anche per quale motivo, immagino io, ecco, adesso riporto a visualizzare la finestrella. Scusate. Rimetto qua. File, crea scorciatoia, applicazione. Ecco, forse anche per quello motivo per cui, per difetto, gli sviluppatori di Chromio hanno scelto comunque di attivare l'opzione desktop piuttosto che quella menu applicazioni, perché ho detto che questa deve essere una scorciatoia rapida, quindi io devo averlo a disposizione subito sul desktop, fare doppio click, non dover aprire il browser, eccetera, eccetera, ma se devo andare a cercare con la Dash, devo aprire la Dash, cercare il mio preferito, fare click, quindi sarebbe una strada comunque più lunga. Quindi, effettivamente, bisogna dire che fra le due opzioni, la scorciatoia del desktop, probabilmente è quella che serve di più di più livello pratico. Il menu applicazioni, così, è un'opzione, ma non è, non raggiunge lo scopo della velocità, della scorciatoia, come deve essere questa funzionalità. Ve l'ho solo mostrato per scopo didattico, però, ecco, e dove viene messa dunque quella scorciatoia per il menu? Tra l'altro, giusto per completezza di informazione, viene messa in questa, in questa particolare cartella specifica, dove noi possiamo aggiungere quanti lanciatori vogliamo di applicativi, e questi verranno riconosciuti, questi lanciatori che vedete qui nel mio caso, nel mio pc, questi lanciatori verranno riconosciuti appunto dalla dash di Unity nella sezione applicazioni qua, quella che ho aperto qua, quindi tutti questi vengono riconosciuti, in più anche il nostro, il nostro link rapido, alla pagina che abbiamo creato adesso, ecco, andiamo avanti, avere solo le icone sulla barra dei preferiti di Chromium, quindi restiamo in ambito Chrome, Chromium come browser, perché è quello che uso, quindi vi spiego delle caratteristiche interessanti di questo browser, chi usa Firefox allora ha le sue, ecco, allora, avere le icone sulla barra dei preferiti, ecco, la barra dei preferiti è quella dei siti appunto, diciamo, più utilizzati, che devo avere sotto mano immediatamente, ecco, più che avere i link sul desktop come vi avevo mostrato poco fa, io preferisco avere quelli più usati qua, nella barra qua in cima dei preferiti, ecco, però, preferito oggi, preferito domani, prima o poi, non essendoci più posto qua in cima, i preferiti iniziano a andare a finire qua, quindi devo già fare un click in più per trovarmi i miei preferiti, ecco, che c'è un modo per accorciare lo spazio, per abbreviare lo spazio occupato dal singolo preferito ed è quello di eliminare il testo descrittivo accanto, ecco, come si fa? Semplice, si fa un, vediamo, prendiamo sempre il nostro Blender V, che abbiamo già usato prima, si fa il tasto destro sul preferito, modifica, e si cancella semplicemente il nome, quello che appare qua accanto, si fa salva e vedete che diventa solo l'icona, quindi si guadagna a posto sulla barra dei preferiti, se non va bene si può sempre rimettergli il suo bel nome e siamo a posto, torniamo alla situazione di partenza, ecco, questa è la tecnica per diminuire lo spazio che occupano i vari preferiti sulla barra dei preferiti di Chromium, naturalmente ci sono siti con delle icone almeno per il singolo utilizzatore personalmente molto significative che mi dicono già tutto l'icona, ci sono siti che richiedono anche il testo accanto per capire a quale sito si riferisce questo link, per esempio questo con l'icona di Ubuntu, ci sono tanti siti con l'icona di Ubuntu e quindi devo per forza lasciargli accanto che è quello che si riferisce alla documentazione ufficiale di Ubuntu oppure questo che è un altro tipo di documentazione quella in inglese mentre altre icone come il traduttore di Google ha quell'icona caratteristica che vuol dire solo quello rispettivamente a Ubuntu ha questa icona caratteristica che vuol dire solo questo Ubuntu One è la sua icona ormai la si riconosce questa eccetera eccetera launchpad anche quindi per alcuni vedete non per tutti ma per alcuni siti ho potuto togliere il testo accanto e quindi guadagnare posto sui preferiti ecco qui dico che ovviamente si consiglia di togliere il testo accanto solo per i siti che hanno un'icona univoca e significativa se no non capite più dove state andando quindi dovete star sempre col mouse e vedere il link originale che non è così pratico ecco questa è la seconda pillola di Ubuntu terza pillola abbandoniamo diciamo il tema browser chromium e entriamo in libre office ecco c'è un'opzione che permette di creare una coppia di backup dei propri documenti che scriviamo cosa si intende andiamo nel nostro documento ecco qui ho già preparato uno stupidissimo documento per la prossima pillola però sfruttiamo l'apertura di libre office per questa prima pillola per libre office quindi si entra nel menu strumenti dunque strumenti strumenti opzioni dove è finito strumenti opzioni scusate avevo il fuoco sulla finestra delle note non capivo non ritrovavo più nei menu scusate distrazione mia adesso il fuoco c'era la finestra di libre office quindi andiamo strumenti opzioni eccoci qua si apre il dialogo delle opzioni di libre office quindi si deve andare strumenti opzioni carica salva carica salva siamo qua generale generale siamo qua e attivare l'opzione crea sempre coppia di backup dove è? eccola qua questa questa opzione questa qua ecco attiviamo questa opzione una volta attivata quell'opzione cosa succede? visivamente sull'uso pratico di libre office niente non ci accorgiamo di niente però succede che nella cartella backup e qui devo riaprire di nuovo gli strumenti per mostrarvi dov'è il percorso per difetto standard della cartella di backup che può essere modificato ma all'installazione viene impostato in quel punto lì quindi andiamo di nuovo strumenti opzioni libre office percorsi come vedete qua percorsi ecco backup ecco qua questo è il percorso della cartella di backup quindi se apriamo eccola qua vedete io ho dentro un paio di backup di documenti di prova senza nome vabbè pazienza comunque qui si accumulerebbero qualora voi lavoraste spesso su uno dieci cento documenti si accumulano una volta attivata quell'opzione quindi in questa cartella si accumulano delle versioni dei vostri documenti punto back che sono che cosa attenzione che sono delle coppie della versione precedente di un documento al momento che lo salviamo cosa vuol dire non è che voi avete n versioni cioè se voi salvate dieci volte il vostro documento non è che avrete le dieci versioni storicamente più vecchie della vostra corrente del vostro documento ma sempre quella precedente ovvero voi lavorate sul vostro documento ecco voi lavorate sul vostro documento andate avanti a scrivere qui qualsiasi testo va bene e poi mi salvo il mio documento ecco qua e a questo punto nella mia cartella di backup questo documento si chiama disgraziatamente senza nome 1 quindi molto poco significativo comunque in questa coppia di backup a questo punto rappresenta la versione appena precedente al mio salvataggio ecco se io aprissi questo documento vediamo un po' se posso aprirlo direttamente in LibreOffice se me lo apre andiamo un po' no non me lo apre perché si chiama BAC bisogna rinominarlo quindi e bisognerebbe rinominarlo ecco adesso non stiamo qui a perdere troppo tempo comunque basterebbe rinominarlo in ODT come vedete qua in cima nella barra del titolo ODT come i documenti di testo in questo caso ma vale per i fogli di calcolo calc come le presentazioni in press come qualsiasi tipo di file di LibreOffice quindi voi andate avanti a modificare il vostro documento e ogni volta che lo salvate la versione precedente dell'ultimo salvataggio la ritrovate qui quindi se vi accorgete di aver fatto una stupidaggine di aver cancellato qualcosa di troppo di aver aggiunto qualcosa che non dovevate e non siete più sicuri bene se avete toccato di qua di là nella pagina 10 20 nella prima pagina potete sempre prima di salvare un'ulteriore volta potete dire no voglio recuperare il mio documento e vi trovate diciamo il penultimo stato del documento ecco sempre qua in questa cartella di backup quindi non è un versionamento vero e proprio ma è semplicemente riservarvi la possibilità di ripartire dalla situazione precedente l'ultimo salvataggio ecco perché avevo creato questo documento con un'immagine e poco di testo proprio per parlarvi della prossima pillola di Ubuntu riservata a LibreOffice che è quella che permette di creare dei documenti pdf cosiddetti ibridi per facilitarne la modifica in LibreOffice come si fa? allora voi avete il vostro documento e volete crearne un formato pdf volete salvarlo in formato pdf quindi si va sotto file si esporta nel formato pdf che è il dialogo specializzato dedicato a questa operazione fra le varie opzioni ce n'è una questa qua sotto generale la vedete qua che si chiama incorpora file open document rende questo pdf facilmente modificabile in LibreOffice ecco se voi esportate il documento con questa opzione attiva vi si crea vi viene creato una versione di pdf particolare ecco che io l'avevo già salvato quindi senza quella opzione documento pdf viene aperto normalmente nel lettore dei pdf come qualsiasi pdf lo vedete questo è il nostro pdf creato senza l'opzione di pdf ibrido questa invece con quell'opzione l'ho salvato con quell'opzione attivata e la stessa cosa cioè nel lettore pdf la cosa è trasparente non cambia nulla non vi accorgete di nulla questo per voi è un pdf qualsiasi se lo mandate a qualcuno che ha solo adobe acrobat reader per esempio lo aprirà tranquillamente come un qualsiasi documento pdf nessuno si accorge di niente cioè l'effetto dell'opzione che vi ho mostrato prima di creare pdf ibrido non è riconoscibile in nessun modo se non che io voglio elaborare ulteriormente questo pdf non per un qualsiasi motivo o perché non ce l'ho disponibile in questo momento diciamo non partendo dal file writer originale ma partendo dal pdf allora se io voglio provare ad aprire il mio pdf normale non ibrido in libreoffice posso farlo quindi pdf normale me lo apro in libreoffice e lui mi attiva non il writer ma mi attiva il modulo di disegno perché un pdf normale per libreoffice non può essere altro che una specie di immagine vedete che addirittura non me lo apre correttamente fino in fondo perché mi manca l'immagine del fiore qua in mezzo vedete è parziale posso modificarlo me lo mostra come un'immagine ma non è ideale come potete notare non è l'ideale modificare il documento originale in questo modo ecco che ci viene in aiuto il il documento ibrido quindi se io apro il documento pdf ibrido ecco qua vedete che si apre prima di tutto non come un disegno ma direttamente in writer perché questo e qui in writer adesso ho aperto due finestre quindi il documento originale testo e il pdf ibrido questo perché perché pdf ibrido vuol dire semplicemente crea un documento con tutte le caratteristiche dello standard pdf ma innestaci dentro diciamo così per dirla alla buona innestaci dentro anche il formato originale open document di writer ed ecco perché qui sto modificando tranquillamente il mio pdf come se fosse un documento originale e posso salvarmelo tranquillamente questo può essere molto 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 interessante per garantirci che anche non avendo più l'originale non avendo a disposizione l'originale posso aprirmi il pdf e lavorare come fosse l'originale ecco naturalmente c'è una nota come dico qui che da qualche parte la differenza deve pure essere se non ce ne accorgiamo con i lettori pdf ce ne accorgiamo però nella dimensione del file vedete che in questo caso il pdf normale è grosso 64 kb lo vedete qui in basso 64 kb quello ibrido è grosso quasi il doppio perché perché include sia le caratteristiche originali del documento di writer sia quelle del pdf vero e proprio quindi diciamo che lo svantaggio se vogliamo dire così è che il documento sarà più grosso ovviamente il pdf definitivo risultante sarà più grosso di quello senza l'innesto del del testo originale ecco però tenete presente che con una semplice opzione di nell'esportazione pdf questa qui potete facilitarvi la vita potete scambiare questo pdf normalmente con altre persone che non usano LibreOffice che non usano queste caratteristiche del pdf ibrido perché non se ne accorgeranno però se vi tornasse questo documento o vi tornasse utile doverlo modificare sappiate che vi facilitate decisamente la vita come vedete questo pdf è editabile è modificabile come un qualsiasi documento Writer ecco qua quindi anche la seconda pillola su LibreOffice è fatta come ultima pillola quindi qui posso anche chiudere voilà posso anche chiudere perché abbiamo visto così risparmio un po' di memoria per il mio povero pc che sto registrando con una virtual box aperta perché perché le ultime pillole riguardano appunto la virtual box quindi chiudiamo anche questo così guadagniamo un po' ecco qua quindi virtual box su virtual box quindi su come si creano le macchine virtuali con tutte le opzioni eccetera eccetera circa un anno fa o più di un anno fa e ho creato un video anche piuttosto lungo nel quale appunto spiegavo tutto quanto però il software come sapete è in continua evoluzione e in più di un anno anche virtual box si è evoluto e ha aggiunto alcune utili o che possono essere utili o interessanti opzioni ulteriori quindi da allora con la versione di virtual box che ho usato per fare il video più di un anno fa qualcosina è cambiata e vediamo che cosa quindi posizioniamoci sulla nostra virtual box quindi ecco qua questa è la finestra di gestione delle macchine virtuali allo stato di oggi attuale che è la versione appena aggiornata 4.2.14 in questo caso sembra proprio ieri o pochi giorni fa ho aggiornato a questa versione allora creazione la prima caratteristica che non esisteva un anno fa e che è apparsa più recentemente è la creazione di gruppi di macchine virtuali quindi fino a questo momento quando non c'erano i gruppi le macchine virtuali erano tutti elencati una sotto l'altra tutte qui in un lungo elenco e qui come vedete io ho già sfruttato i gruppi per suddividere i tipi di macchine virtuali in categorie diverse ecco la cosa non non è solo una questione di interfaccia qua ma si rispecchia anche nelle cartelle sul disco del vostro pc dove sono archiviati i file delle macchine virtuali vedete io ho tre gruppi android linux e altri e ci sono tre cartelle principali altri android e linux sotto android ci sono due macchine virtuali e tutto è rispecchiato qui due sotto altri ce ne sono pure due e ne ho due una due tre quattro cinque sotto linux e vedete che adesso qui chiudo queste vedete che sono una due tre quattro cinque quindi anche a livello di file di archiviazione delle macchine virtuali avete si rispecchia la struttura che voi date se volete darlo ovviamente che voi date nei gruppi qua ecco come si gestiscono i gruppi diciamo che c'è un un una possibilità con il tasto destro quindi voi avete una macchina virtuale creata voi potete dire raggruppami questa macchina virtuale qui ne prendo già una che fa parte di un gruppo e metto raggruppa e immediatamente si crea un nuovo gruppo con questa macchina virtuale e qui vedete sulla destra che nell'organizzazione dei file delle cartelle si è creato immediatamente un nuovo gruppo con sotto sottostante la macchina virtuale che ho spostato nel nuovo gruppo ecco col tasto destro sul gruppo io posso rinominare il gruppo così come separare il gruppo cioè ovvero scioglierlo annullare questo gruppo vedete che questa macchina virtuale a questo momento non appartiene a nessun gruppo di quelli esistenti infatti è qui per conto suo vedete qui sulla destra si rispecchia sempre tutto ciò che io tocco qua sulla sinistra si rispecchia a livello a livello a livello di file e cartelle voglio rimettere questa macchina virtuale al suo posto sotto il gruppo linux a questo punto la prendo con il mouse drag and drop la trascino e la rimetto al suo posto vedete che sparisce da qui e torna a essere sotto linux questo è carino per chi ha tante macchine virtuale io non ne ho tante solitamente dopo un po' di tempo cancello quelle troppo vecchie però così per scopi didattici e chi ha tante appunto macchine virtuale può far comodo suddividerle in categorie specifiche per avere un po' più organizzato e ordinato il suo ambiente di macchine virtuale seconda caratteristica delle macchine virtuali è la possibilità vediamo un po' che mi sposto le cose in modo un po' più pratico quindi questa è la macchina virtuale è aperta una delle macchine virtuali è aperta la futura ubuntu 1310 che uscirà a ottobre qui allo stato attuale l'ho aperta qua ecco dunque virtualbox permette oggi ad oggi allo stato attuale di poter trascinare dei file tra pc reale e virtualbox e viceversa ovvero sulla carta dovrebbe fare anche il viceversa però ho constatato che al momento questa operazione funziona solo dal pc reale verso la macchina virtuale ma non il contrario quindi sarà un difetto sarà una cosa ancora sperimentale non lo so comunque vi posso mostrare in un senso solo questa operazione non nei due sensi cosa si tratta per attivare questa opzione bisogna andare nelle impostazioni della macchina virtuale aspettiamo che si aprano ecco qua si apre generale avanzate e vedete qui queste due queste due opzioni ecco adesso sono disabilitate perché ho selezionato ho ancora selezionato la macchina che ho usato prima per l'esercizio sui gruppi quindi no seleziono quella in esecuzione attualmente questa qua che ho qui aperto rifaccio l'esercizio avanza ecco vedete io ho attivato appunti condivisi bidirezionale oppure da guest a host da host a guest io metto bidirezionale vuol dire che posso fare copia e incolla dalla macchina virtuale verso il mio pc vero così come dal mio pc vero verso la macchina virtuale questo era il terzo punto qua già che ci siamo facciamo i due punti contemporaneamente quindi il copia e incolla ecco vi mostro già che siamo qua gli appunti condivisi cosa vuol dire appunti condivisi adesso mi posiziono sul mio editor di testo scrivo una frase prova di coppia e incolla con virtual machine voilà quindi io seleziono ctrl c copio vengo nell'editor di testo nella macchina virtuale quindi faccio click clicca all'interno adesso sono nella macchina virtuale faccio incolla e vedete che funziona la condivisione dell'area degli appunti ecco di copia e incolla fra macchina virtuale e macchina reale qui questo è carino e notevole perché fate conto che qui io sto sempre usando Ubuntu qui e qui ma potrebbe esserci Windows qua dentro qualsiasi altra versione di sistema operativo e gli appunti funzionano dal mio pc vero verso la macchina virtuale così come funzionano anche appunti dalla macchina macchina virtuale e voilà così come al contrario faccio copia e posso incollare qui vedete che funziona quindi gli appunti bidirezionali funzionano perfettamente quello che dicevo qua prima che ho scritto qua far parentesi al momento funziona solo dall'host quindi dal pc vero verso il guest quindi verso la macchina virtuale è il trascine rilascia pur avendo attivato bidirezionale in realtà riesco a farlo solo dal pc vero verso la macchina virtuale ecco qua magari andiamo sulla scrivania sfruttiamo il nostro pdf normale che abbiamo creato di cui abbiamo parlato prima ecco e prendo il mio file drag and drop lo trascino nella macchina virtuale vedete che funziona ecco e questo anche è notevole se pensate che stiamo parlando di due sistemi operativi virtualmente di due pc diversi posso semplicemente fare un prendi e trascina un drag and drop e funziona mi ritrovo i file nella macchina virtuale molto pratico diciamo che è più rapido che crearsi una cartella condivisa fra pc vero e macchina virtuale eccetera eccetera ecco purtroppo appunto allo stato corrente se io prendo questo file e provo a trascinarlo fuori non funziona cioè reagisce l'interfaccia unity all'interno della macchina virtuale ma non posso sconfinare e fare uscire questo file al contrario quindi per il momento funziona solo in una direzione ecco con questo ho concluso questa mia prima puntata di pillole di ubuntu spero che qualcuno di questi miei appunti possano essere utili a qualcuno e con un saluto vi saluto al prossimo video ciao ciao